E' arrivato il momento di scoprire quanto siamo scarsi su Fortnite. Quello che andremo a fare oggi sarà una challenge, un test, un quiz, non lo so neanche io che cos'è, però ci permetterà di scoprire quanto siamo bravi a Fortnite e voi sapete già quale sarà il mio risultato. Io direi di passare direttamente in gioco così vi spiego come funziona, mi raccomando ricordate di lasciare un like, ma soprattutto le persone che sfido per questa challenge siete proprio voi. Infatti vi invito a fare questa sfida che adesso vi spiegherò e dovete scrivermi tutti quanti il vostro risultato nei commenti. Adesso possiamo iniziare. Dopo aver scelto la nostra skin più competitiva, io oggi in genere diciamo che quando voglio vincere una partita metto il corvo, non so perché, ma oggi voglio cambiare strategia, infatti la mia prima partita la voglio iniziare con questa skin invisibile. Dov'è? Vabbè, è scomparso ragazzi, comunque volevo utilizzare lui, non so, ok, me l'hanno fatto mettere, è morta fiamma. Poi vabbè, ovviamente il piccone del fenicottero fatto scioppare e dai sciupere su One Console, e per favore cambiamo questo deltaplano che non ce la faccio più a usarlo, mettiamo, cioè dobbiamo cercare di mettere delle cose molto serie ovviamente. Tramite questo test riusciremo a capire se siamo dei nabbi, dei giocatori normali comunque nella media, oppure dei pro. Se sommando le kill delle nostre tre partite ci vengono 10 kill o meno, significa che siamo dei nabbi. Poi dalle 10 alle 19 kill siamo dei giocatori normali nella media, mentre se riusciamo ad arrivare a 20 uccisioni, che significherebbe 7, 14 e altre 6 sono 20, quindi fare più o meno 7 kill alla prima, 7 alla seconda e 6 alla terza, siamo dei pro. Ovviamente questa sfida l'ho costruita io e le kill le ho decise io, ovviamente potete modificarle in base alla vostra bravura, però questa è la sfida che vi propongo oggi e che dovete tutti quanti fare e dirmi quante kill avete fatte e quindi scoprire se siete dei nabbi, dei giocatori normali o dei pro. Io direi di non perdere tempo, avviamo subito la prima partita e ovviamente non possiamo scegliere le partite, cioè dopo che iniziamo la prima partita della nostra sfida, ne dobbiamo fare 3 di fila e come vanno vanno. Ovviamente possiamo buttarci dove vogliamo, l'ideale sarebbe pinnacoli pendenti perché si possono fare un sacco di kill, ma c'è anche da dire che si può morire in un attimo, quindi io non me la voglio rischiare e provo ad andare per questa prima partita a corso commercio. Ricapitolando, dalle 0 alle 9 uccisioni siamo dei nabbetti, dalle 10 alle 19 kill siamo giocatori normali e dalle 20 in poi siamo dei veri e propri pro. Tutto è possibile! Io mi fermo alla casetta e spero veramente di trovare un loot bello. Fortnite deve essere dalla mia parte per questa sfida. Un regalo, lo lanciamo subito. Vediamo cosa ci regala. Qualcosa di buono. Oh no, non so perché sia... Eccolo. Sta là sotto. Ok. Va bene, grazie della kill. Subito cildini e siamo a un'uccisione. Per adesso va bene, dai. Stiamo perdendo troppo tempo a lootare, veramente troppo, ma sto cercando una mitraglietta più che altro e non la trovo. Io in realtà avevo visto atterrare qualcun altro qui. Stiamo attenti perché secondo me ai negozi sta... Eccolo. No way. Ma che cacchio. Boom! Fuori due, direttamente! Mamma mia, cosa è successo? Siamo a tre uccisioni. Siamo a tre uccisioni e per fortuna questo ha di tutto qui. Mi raccomando ragazzi, ricordate nei commenti di scrivere la vostra categoria, quindi ad esempio normale e a fianco il numero di kill che avete fatto. Sono troppo curioso e li leggo tutti. Se qui c'è un P90 leggendario, lo prendo. A posto. Con cosa? Col ferro. E vabbè, l'unica cosa che non ho. Anzi, non è vero. Sarebbe stato peggio con la pietra. Ah, anche il medikit. Ah vabbè, a sto punto me lo faccio adesso il medikit, va. Oh oh, la safe. No way. No way. Nemico. Cosa? Io ho rotto i palloncini, raga. Io ho rotto i palloncini e rimasto incastrato là sopra. No, ne ho un altro di palloncino, giustamente. Oh yes! Fuori un altro e anche il Chuck Jug. La mitraglietta. Dov'è la mitraglietta? Ciao mitraglietta. È stato bello. È stato un onore conoscerti. Raga, nemici qui. Mi sa che ci sono nemici qui a fianco. Non lo so. Cosa faccio? Il Chuck Jug no. Cioè, vi rendete conto che c'è un nemico qui dentro? Prova a bermi il Chuck Jug, magari esce. Se faccio così? No. Ok. Fuori anche lui. E dammi quest'arma, per favore. Perché ha due scaracca lui? Vabbè, non facciamoci domande, va. Aveva tutti quanti i fucili d'assalto. Non chiedetemi il senso. Sì, mi prendo un altro barrette e un altro fucile a pompa, così, giusto per passare il tempo. Dobbiamo riandare in safe. Ok, meno male che ho trovato questo rampino. Almeno mi faccio così e già avanzo di molto. Ok, si è jumpato. Uh! Nemico qui, appena costruito. What? Si starà curando, secondo voi? Guardate. Guardate che faccio. Ok, fuori uno. Il mio obiettivo era farmeli tutti e due, quindi se adesso failo non va bene. Oh, sniperato. Guardate quanto è salito, questo è da buttare giù. Eccolo. No! Come? Ma quanta vita avevo, soprattutto? 20 di vita, ragazzi, non ci credo. No way. No way. Guardatelo, è pure morto. È anche morto. No, forse no, resiste. Ma chi se ne frega. Vabbè, dai, sei uccisioni. In realtà le sei uccisioni non sarebbero male neanche per la strada verso la categoria dei pro. Il problema è che adesso mancano ancora due partite e dobbiamo tenere una media molto alta, quindi... Buona fortuna, Matti. Qua sono sicuro che ci andrà un botto di gente e me la voglio rischiare perché sono gasato. Passatempi pomposi. In questo caso siamo tipo in sei, quindi... Non è vale la pena andare al palazzo centrale, secondo me. Facciamoli uccidere un pochino a vicenda. Qui tanto... Subito fucile a pompa. Qui non c'è la cesta ma c'è sopra. Cosa? Quanti nemici ci sono? Quanti? Quanti nemici ci sono qua dentro, ragazzi? Mi sono andato a intromettere in qualcosa... Oh, 200 in testa. Fermi, 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 fermi. C'è tanta di quella gente che voi non sapete. Ce n'è uno intanto che mi corre sopra. Eccolo. Oh, altri 200 in testa, non ci posso credere. La magia degli headshot. Un altro nemico. Un altro nemico che insegue un altro nemico. Sono chiuso. Sono fottuto. Via. Via, 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 via. Si stanno sparando veramente? Si sono uccisi? Ok. Stiamo avendo un po' di fortuna. Il problema è che adesso la vita è finita, veramente. Abbiamo fatto fuori i passatempi pomposi. Il problema è che stiamo messi molto male ora. Bende, 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 yeah. Anche lo scudo. Qui qualcuno ha costruito da poco, eh. Aspettate un secondo, l'ho visto andare qui, è possibile? Sì. Ha preso il quad. No! È dentro la casetta un altro. No, sono in due. Eh, ci siamo fatti male a vicenda adesso. Eh, ora è un casino. Provo a farmi una benda. Facciamoci una benda, così, nel dubbio. No, l'ho lisciato. Nemico. Ok. Ok. No. No, 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 no. Devo farmi una benda. No, me la faccio la benda. L'ho preso in testa! L'ho preso in testa. Vi ricordate il corvo? Non mi ricordo chi era che ho sparato nella tempesta. Gli ho fatto un sacco di danno, ma mentre gli ho dato l'ultimo colpo, lui è morto dalla tempesta. No, vabbè, non ditemi se questa non è sfiga, no. Partita veramente stranissima. Non l'ho capita neanche io, ma abbiamo fatto tre uccisioni. Questo e il suo lanciarazzi ci hanno rovinato veramente, veramente tutto. Siamo a sei kill più tre e nove. Ce ne manca soltanto una per entrare nella categoria dei normali. Che sfiga, che sfiga. Dai, cambiamo anche skin per quest'ultima partita. E ora mi sembra quasi impossibile diventare dei pro. Perché siamo a nove. Dobbiamo farne venti. Quindi undici kill in una sola partita. Senza riprovarci. Nel senso, questa è l'unica partita a disposizione. Guardate, al momento spero di farne una, eh. Al momento spero di farne una. Ultima partita. Quindi dovrei giocare in modo tattico, eh. Va bene. Landeletali. Fidatevi di me. Sono un esperto. Io vi dico che esco da Landeletali con almeno tre uccisioni. Ci scommettiamo? Il nemico mi atterra a fianco. No, il caccia non lo voglio. Uno è andato. Uno è andato. Non ci ha fatto neanche tanto, tanto male. Ok. Dai, Mattis. Dai, Mattis. In questo momento siamo già nella media e va bene così. Ma io non mi accontento. Oh, cacchio. Ci bombardano. Io mi bevo lo shield. Sì, 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 sì. Un altro shield da 50. Ce lo beviamo subito. Ci sono razzi in continuazione. Ho paura di uscire di casa. Aspettate un secondo. Fatemi andare in cima. Perché devo cercare di capire una cosa. Dove sono? Dai, 86 non è morto. Uh, fuori quello con lanciarazzi. Fermi, fermi, fermi. Questi si sono fatti malissimo. Non dovevo spararlo, probabilmente. L'ho ucciso così. Tre uccisioni. Proprio random. Quello con il palloncino e lanciarazzi mi ha fatto spaventare in una maniera incredibile. Però, 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 siamo vivi. Così. E ci siamo. E ci siamo, ragazzi. Tre uccisioni. In questo momento ci siamo assicurati già la seconda posizione, possiamo dire. Ora, fare 11 kill. Non mi fa costruire. Non mi ha fatto costruire perché stavo mangiando una mela. Mi hanno sniperato. Io mi continuo a mangiare le mele. Non mi interessa. Lui è qui. Fermi, 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 fermi che lo vedo. Boom. Oh, yes. Raga, pensate se non morivo prima. Riuscivamo anche a fare le 20 uccisioni, secondo me. Secondo me sì. Allora, ce la rischiamo? Ce la vogliamo rischiare? Rischiamocela. Fenditura. Ci portiamo questo e andiamo a pinnacoli pendenti. Non è vero. A pinnacoli pendenti no, perché tra un po' è fuori dalla safe, ma andiamo a borgo bislacco. Ci servono nemici, ragazzi. Nulla da fare. Ce la rischiamo il tutto per tutto. Tanto alla fine. Ormai la seconda categoria l'abbiamo presa. Quindi, ok. Ok. Aia, mi ha sparato. Ok. Lui non sa che è un lanciarazzi, però. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. Va bene lui, giustamente. Mi spara. Io mi copro. Pum! Come ho fatto a non prenderlo? Quanti kill dovevo fare io? 11. Tutto per colpa di sta cecchinata che ho provato a fare. Se entrava, ragazzi, era tanta roba. Ma non è entrata, no. Comunque, tre partite di fila, di cui la prima 6, la seconda 3 e la terza 4, per un totale di 13 uccisioni. Ovviamente poteva andare molto meglio, come poteva andare molto peggio. Siamo rientrati nella categoria media, possiamo dire. Non siamo né nabbi e né superforti. Vi invito a fare questa sfida. Vi ripeto un attimo le regole, semplicemente. Appena decidete di iniziare questa sfida, partite con tre partite consecutive e sommate il numero di kill che avete fatto. Potete buttarvi dove volete. Se fate dalle 10 alle 19 uccisioni, siete dei giocatori nella media, mentre dalle 20 in poi siete dei pro. Ovviamente questa sfida l'ho creata io in base alle mie aspettative, perché ovviamente so qual è la mia media di kill. Ovvio che se faccio 30 partite la media di kill è più alta, perché le posso scegliere, mentre tu ne devi fare 3 e basta. Vi ricordo di passare in descrizione perché ci sono tantissimi link utili, soprattutto il mio profilo Instagram. Andatemi a seguire e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao ragazzi!